Ciao a tutti, sono il dottor Fabio, andrologo e urologo a Londra. Oggi vorrei parlarvi del futuro della tecnologia sessuale. È un argomento molto affascinante per il suo grande impatto sulla nostra vita. Il campo della sessualità non è immune al progresso tecnologico. Stiamo vedendo l'emergere di innovazioni come la realtà virtuale, i robot sessuali e i giocattoli sessuali intelligenti. Iniziamo con la realtà virtuale, o VR. Questa tecnologia sta diventando sempre più popolare nel campo dei videogiochi e dello spettacolo, ed ora sta penetrando anche nel mondo della sessualità umana. La VR consente un'esperienza coinvolgente, creando un ambiente virtuale che engage i sensi. Nella sessualità può offrire nuovi modi di connettersi per le coppie che vivono a lunga distanza, con piattaforme VR che permettono di creare avatar e alimentare un senso di presenza e vicinanza. Poi abbiamo i robot sessuali che introducono una nuova dimensione nel discorso tecnologico sessuale. Sono macchine progettate per imitare il tocco, la compagnia e l'intimità umana. Nonostante sia ancora una tecnologia emergente, i robot sessuali hanno alimentato dibattiti su considerazioni etiche, consenso e possibili implicazioni nelle relazioni umane. Mentre alcuni vedono questi robot come una possibile soluzione per chi ha difficoltà relazionali, altri esprimono preoccupazioni su una possibile oggettivazione del corpo umano. Non dimentichiamo i giocattoli sessuali intelligenti. Questi dispositivi sono dotati di funzionalità di connettività che consentono agli utenti di controllare e personalizzare la loro esperienza attraverso app, per smartphone o altri dispositivi. Queste innovazioni permettono alle coppie a distanza di mantenere un senso di intimità, ma sollevano anche questioni riguardanti la privacy e la sicurezza dei dati. È quindi necessario trovare un equilibrio tra connettività e protezione delle informazioni personali. Il futuro del sesso è indubbiamente intrecciato con il rapido avanzamento delle tecnologie. Queste offrono nuove possibilità per esplorare ed esprimere la propria sessualità. Tuttavia, con queste tecnologie si pongono anche nuove questioni etiche e privacy, oltre all'impatto sulle relazioni interpersonali. In ogni caso, è emozionante pensare a come le innovazioni tecnologiche possono arricchire e ampliare la nostra esperienza sessuale. Grazie per avermi ascoltato oggi. Sono il dottor Fabio, sempre pronto per affrontare le sfide che l'innovazione porta nel campo dell'andrologia e dell'urologia. Ricordati di iscriverti al mio canale YouTube.